2.66 la quota per la scuderia, il contro il numero 9 Olona Ok, 3.32, poi gioco anche per il 6 Ocean Dancer e il numero 10 Orleans OM. L'allegamento che si va formando, mancano poco più di 200 metri allo stacco, leggermente discosta Ombretta Bar che attende il vantaggio della piegata per arrivare a rete, si ritrae Olimpia Griff. Tutti gli altri sono lì a giocarsi la partenza, quando l'autostar chiude le ali dall'esterno l'errore che coinvolge un Weibin SM, allora il comando prova a portarsi all'interno Hortensia Gual, poi c'è anche il numero 1 di Ombretta Bar, si va così a completare il primo quarto di gara, giunge sul piede del 28.9 per Ocean Dancer che ora deve sopportare l'arrivo all'esterno di Oreade che viene a mettere pressione all'allieva di Alessandro Gocciadoro, Oreade che si adegua ai 600 in 43.2, con in schiena ancora one minute di no, tanto c'è stato l'errore per Oxyurea Jet e si va così ad imboccare la curva di destra, sempre con Ocean Dancer al comando, nei confronti di Hortensia Gual e di Oreade che all'esterno 59.1 per gli 800 di gara, con Oreade che torna all'affianco di Ocean Dancer quando si va al chilometro, la seconda pariglia presa sempre da one minute di no, il chilometro passato sul piede dell'1.15 appena abbondante con One Minute che ha spostato in aggiramento su Oreade e cerca di andare su Ocean Dancer, rimane sempre ben appostato Hortensia Gual, dall'esterno provano a progredire anche le altre, con anche il numero 14 di Honda Griff in terza alla corda, si va così all'apice della curva finale, con sempre al comando Ocean Dancer, poi ancora all'esterno l'avanzata da parte di Polona, ok, si va così addirittura d'arrivo, ora c'è One Minute che va decisa sulla battistata, sta passando all'esterno di tutti Olona, ok, più indietro Ombretta Bar, ma intanto è ancora One Minute che la porta a casa su Ombretta Bar e Olona, ok. E dunque One Minute di no e Roberto Andreghetti sono riusciti a portare a casa il successo in questa edizione 2010 dell'allevatore I Filli. Nel finale al centro della pista, venuta a fare lo spunto, più indietro c'è la compagna di Scuderia Ombretta Bar, al lato di tutti Olona, ok, ma nel finale mantiene mezza lunghezza di vantaggio abbondante, One Minute di no, che viene a chiudere sul piede del 1.13.9 con l'accoppiata di Scuderia, perché al secondo posto arriva Ombretta Bar, a precedere ancora Olona, ok, mentre quarta è Ortenzia Guala.